Buongiorno, buon Ferragosto a tutti. Oggi 15 agosto. Auguriamo una buona giornata, un buon Ferragosto a chi lavora, a chi è in vacanza, a tutti naturalmente. È una giornata di commento perché nella serata di ieri il Milan ha giocato e ha vinto 2-1 contro il Panathinaikos. Nell'ultima amichevole estiva, la sesta amichevole pre-campionato, tra una settimana si parte, tra una settimana si scende in campo, c'è il match contro la Sampdoria. Lunedì 23 agosto sarà la prima giornata di campionato, quindi la gara contro il Panathinaikos è stata importante anche per capire un po' lo stato di forma della squadra e fare le prove generali per questo avvio di stagione. La cosa particolare che naturalmente ha colpito tutti è il diverso settaggio tattico da parte di Stefano Pioli, un modulo diverso rispetto al 4-2-3-1 che solitamente è utilizzato nella scorsa stagione e anche in questo avvio di nuovo campionato, naturalmente mi riferisco alle amichevoli estive. Un 4-4-2 che è un po' sorpreso soprattutto per l'esclusione di Diaz, che è il numero 10 titolare. Evidentemente Pioli ha voluto anche fare degli esperimenti ed è giusto così perché gli amichevoli servono a questo, gli amichevoli servono a provare, a sperimentare anche delle soluzioni che poi possono ripetersi durante il campionato e nel corso della stagione. Però insomma ha balzato all'occhio subito l'esclusione di Diaz, il fatto che comunque abbia voluto provare i due attaccanti, Rebic e Giroud, un qualcosa che non ha mai potuto provare fino ad ora perché Rebic è tornato comunque da poco, dalla nazionale dopo aver avuto un periodo di ferie, insomma un periodo di vacanze ed era un po' più in ritardo nella preparazione ma poi sta provando a rientrare in forma. Ha provato Rebic e Giroud in tandem offensivo, quello che naturalmente abbiamo visto tutti nella partita è un Olivier Giroud totalmente immerso già nelle cose del Milan, nella mentalità del Milan, sia dal punto di vista della testa sia dal punto di vista tattico, perché è un giocatore che viene cercato e trovato dai terzini rossoneri, dai centrocampisti rossoneri, addirittura anche dai difensori centrali, perché il primo gol di Giroud nasce da un lancio di Tomori. Sono anche cose che sono state provate durante gli allenamenti, un lancio di Tomori dalla lunga distanza, l'inserimento di Giroud lasciato anche abbastanza solo in area di rigore, è il primo gol del francese. La doppietta invece con un cross dalla destra di Calabria. Quindi sono tutte cose che Stefano Pioli sta provando durante gli allenamenti a Milanello, però il terminale offensivo è Giroud. In questo momento è lui che dà le certezze alla squadra, è lui che guiderà il Milan nelle prime due, almeno nelle prime due giornate di campionato, pure perché naturalmente mancherà Zlatan Ibrahimović. Quindi con l'assenza di Ibrahimović, per forza di cose il Milan deve appigliarsi al giocatore francese. Ed è sembrato subito in forma, è sembrato un giocatore comunque in grado di reggere il peso dell'attacco, un giocatore d'esperienza, di qualità. Ci mette anche la faccia a fine partita con delle belle dichiarazioni. Insomma è un giocatore che sembra essere al Milan già da diverso tempo e questo fa molto piacere. Tra l'altro ha segnato tre gol nelle quattro amichevoli che lui ha giocato con la maglia del Milan. Questo vuol dire che il feeling con la rete è abbastanza importante e questo sarà fondamentale per l'avvio di stagione del Milan. Abbiamo parlato di Giroud, del settaggio tattico, del modulo di Stefano Pioli in questa amichevole contro il Panathinaikos, se il 4-4-2 a differenza del 4-2-3-1 che solitamente utilizza l'allenatore rosso-nero c'è anche da discutere del calciomercato perché ora sono arrivati i giorni caldi, gli ultimi 15 del calciomercato, quindi bisogna stringere, bisogna un po' arrivare agli obiettivi su cui Paolo Maldini e Frederic Massara hanno lavorato nel corso di quest'estate. Il primo nome che vi facciamo è sicuramente quello di Adli, ci sembra essere uno dei giocatori un po' più vicini. Anche nella giornata di ieri ha parlato il presidente del Bordeaux, Gerard Lopez, e ha ribadito che le parti sono quasi vicine ad un accordo, mancano gli ultimi dettagli. Quando un presidente si espone in questo modo è perché comunque la trattativa sta andando bene. Da quello che ci risulta è lui l'obiettivo in mediana, il MIA non farà tanti altri stravolgimenti nella zona mediana del campo perché comunque alla fine che si salterà due partite, non è una tragedia, salta la Samp, salta il Cagliari, che comunque come avete anche voi giustamente sottolineato nei commenti sotto i video dei giorni scorsi, non vanno sottovalutate le partite contro Cagliari e Samp, però è anche vero che il Milan non può fare un altro investimento solo perché si manca per due giornate. Ci sembra comunque che ci sono altri reparti su cui fare investimenti e su cui sbrigarsi anche, soprattutto la tre quarti. Ecco, sulla tre quarti, da quello che abbiamo capito, il Milan sta ancora lavorando sul nome di Nikola Vlasic del Seska Mosca. Il problema resta sempre lo stesso di quello che vi abbiamo raccontato già da diverse settimane, ovvero il fatto che per ora, e ripeto per ora, al 15 di agosto, la squadra russa non sta aprendo alla soluzione del prestito con diritto di riscatto, la formula che vorrebbe il Milan, anche perché il Milan non può o non vuole insomma investire 25-30 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto perché si ritroverebbe poi fra un anno a versare una quota molto alta. Se il Seska Mosca apre alla formula del prestito con diritto, il Milan pensiamo che possa fare questo sforzo e andare a prendere Vlasic. Da quello che circola anche negli ultimi giorni a livello di indiscrezione è che il suo procuratore sta fortemente lavorando per portare via Vlasic dal Seska Mosca e il Milan è una delle squadre maggiormente interessate. Quindi attenzione alla pista Vlasic, non è detto magari che sarà lui il trequartista su cui investirà il Milan, però è una delle soluzioni valide sull'agenda, sul taccuino di Massara e Maldini. Sappiamo tutti che in questi 15 giorni il Milan deve sbrigarsi, deve accelerare, deve prendere il trequartista, deve fare questo colpo. Serve un nome importante, serve un nome di esperienza, un nome di qualità. Isco piace ma è sempre complicato, Ziyech è il sogno perché il Milan vorrebbe fare un giocatore che possa giocare sia sulla trequarte sia sulla la destra e chi meglio di Ziyech? Però la domanda è il Chelsea lo darà in prestito? A noi ci sembra francamente difficile. I nomi che sono stati fatti fino ad ora sono tutti validi, però è anche vero che il Milan ne deve scegliere uno e deve andare dritto su questo nome negli ultimi 15 giorni di mercato. Quindi nei prossimi giorni, subito da domani, proveremo a capire quale di questi giocatori è quello su cui il Milan vuole puntare nel rush finale del calciomercato, anche perché bisogna sempre valutare non solo l'aspetto tecnico ma anche quello economico ed è lì che il Milan sta cercando di ottenere l'occasione migliore. Però, insomma, godetevi questo ultimo giorno, questo giorno di ferragosto, non ultimo, per chi è in vacanza da tempo ma magari per chi lavora come me stacca soltanto un giorno, da domani si riprende a caccia di notizie perché il Milan deve accelerare sul mercato, il Milan deve rinforzare la rosa. Entro il 31 di agosto. A presto per un nuovo video.